Musica Ed eccoci ad un nostro nuovo appuntamento con la rubrica Economia Reale. Oggi siamo in compagnia della dottoressa Immato Disco, consigliere dell'Ordine dei Commercialisti di Nocera Inferiore e parliamo del modello 730 precompilato. Iniziamo con lo spiegare che cos'è. Il modello 730 precompilato, altri non è che un modello già compilato dall'Agenzia delle Entrate. Da quest'anno infatti, a far data dal 15 aprile, l'Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dei contribuenti titolari di reddito di lavoro dipendente, redditi assimilati al lavoro dipendente e redditi di pensione, un modello 730 compilato già in parte. Perché compilato solo in parte? Perché nella maggior parte dei casi il modello andrà integrato o modificato da parte del contribuente. In effetti l'Agenzia delle Entrate all'interno del modello ha inserito solo le notizie inerenti e i dati inerenti al contribuente in suo possesso. Vale a dire i redditi da cui è venuto in possesso mediante la certificazione unica che i sostituti d'imposta hanno provveduto ad inviare all'Agenzia delle Entrate entro il 9 marzo. I dati già presenti in anagrafe tributaria sarebbe a dire il nominativo del contribuente, i dati anagrafici, i dati relativi ai familiari a carico, i dati relativi agli immobili, terreni e fabbricati, però questi dati c'è da dire che nel caso in cui ci fossero state delle modifiche, come già anticipato prima, vanno comunque integrate. Ad esempio nel caso in cui il contribuente abbia acquistato un immobile ritrova già l'immobile all'interno della dichiarazione ma dovrà andare a indicare l'utilizzo di quell'immobile. Troviamo inoltre i dati relativi ad alcuni oneri deducibili di cui l'Agenzia delle Entrate ha conoscenza in quanto gli sono stati comunicati dalle banche, dalle imprese di assicurazioni, nonché dagli enti previdenziali, vale a dire gli interessi passivi sui mutui, i contributi previdenziali, quindi previdenza complementare e assicurazioni sulla vita, nonché contributi versati per colf e badanti. Mancano i dati relativi alle spese mediche, per cui il contribuente che ha da dedurre, da portare in deduzione nella dichiarazione dei redditi delle spese mediche dovrà provvedere lui direttamente a indicare le spese mediche del modello. Ecco perché prima dicevo compilato solo in parte, perché per l'appunto saranno tantissimi sicuramente i casi in cui il contribuente dovrà mettere mano di nuovo alla dichiarazione. Come viene in possesso il contribuente del modello precompilato? Il modello precompilato, contrariamente a quanti pensano molti, non viene recapitato al domicilio del contribuente per posta, bensì viene messo a disposizione da parte dell'Agenzia delle Entrate sul sito istituzionale dell'Agenzia delle Entrate in un'area riservata, cui il contribuente potrà accedere mediante delle credenziali di accesso, un codice PIN che gli viene rilasciato dall'Agenzia delle Entrate dietro sua richiesta. Quindi il contribuente che cosa fa? Si reca all'Agenzia delle Entrate e chiede il PIN, oppure telefona a un numero verde, un numero che è stato messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e fa la richiesta e gli sarà recapitato per posta, o ancora va sul sito dell'Agenzia delle Entrate, si registra, indica alcuni dati che gli vengono richiesti in fase di registrazione, tra cui il reddito dichiarato nella dichiarazione del reddito modello 730 dell'anno precedente, in quel momento gli viene rilasciato la prima parte del codice PIN, la seconda parte gli sarà recapitata per posta nel giro di circa 10-15 giorni, dopodiché potrà accedere con il PIN completo sul sito e prendere visione quindi del modello di un prospetto in cui sono stati indicati i redditi e la provenienza riportati nel modello 730 da parte dell'Agenzia delle Entrate, le spese ovviamente che sono state riportate dall'Agenzia e il prospetto di liquidazione della dichiarazione, in questo caso il contribuente che ha avuto accesso al proprio modello 730 che cosa fa? Praticamente può accettare e quindi confermare il modello così come lo trova sul sito e inviarlo, sempre ovviamente online, oppure può provvedere a portare le dovute modifiche ed integrazioni. Possiamo immaginare che ovviamente non tutti sono in grado di mettere in atto autonomamente questa procedura, per cui il contribuente può procedervi autonomamente oppure può rivolgersi a un professionista abilitato, nel caso un dottore commercialista, un CAF, un consulente del lavoro, al quale conferirà una delega che gli consentirà di avere accesso al suo 730 precompilato e quindi sarà in quel caso il professionista a provvedere a tutti gli adempimenti, all'integrazione, alla consegna e quant'altro. Bene, noi ringraziamo la dottoressa Todisco per queste delucidazioni, l'appuntamento rinnovato alla prossima settimana. Grazie a voi e arrivederci. Grazie a voi.